Sono Lino Montante, sono socio fondatore di RSM, sono attualmente responsabile delle risorse umane, sono responsabile degli uffici siciliani di Palermo e Agrigento e coordino il team dell'Area 3 di RSM. Dottor Montante, secondo lei quali sono i trend o i cambiamenti regolamentari che hanno avuto un impatto significativo sulle aziende del territorio in cui opera? Sicuramente nel nostro territorio, il territorio siciliano in cui opero prevalentemente io, sicuramente ha avuto a grande impatto anche la riforma del controllo contabile, dove è steso significativamente l'obbligo del revisore legale. Abbiamo visto tantissime aziende, anche piccolissime, che si sono avvicinate alla revisione contabile e queste sono state già confermate dopo il primo triennio. Questo noi lo possiamo confermare, visto che noi siamo una società leader nel nostro territorio, avendo oltre 150 clienti a cui facciamo la revisione legale. Quali sono le principali sfide e opportunità che le aziende incontrano nello sviluppo delle politiche di sostenibilità? Allora, diciamo che la sostenibilità è una grande opportunità e per l'azienda è sicuramente una sfida, perché significa in parte ristrutturare e rivedere molti progetti che erano in cantiere nell'azienda e devo dire che nel nostro territorio molte realtà si sono già approcciate a questa nuova visione dell'impeditoria. Il progetto di sostenibilità già da molte aziende sono state avviate e specie nel nostro campo agroalimentare e quello turistico dove il nostro territorio sicuramente ha più la vocazione principale visto grazie al clima e al territorio in cui si trova.